Clinic Medical Beauty negli anni è diventata un punto di riferimento d'eccellenza per la cura estetica di viso e corpo, leader indiscusso nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica in Italia. Tra le ultime tendenze in arrivo dagli Stati Uniti il modello Botox Bar. E per aggiungere l'esempio degli States, Clinic Medical Beauty ha strutturato i Clinic Bar, dei piccoli ambulatori di medicina e trattamenti estetici su strada con ampi orari di apertura, che consentono agli utenti un ritocchino rapido durante la pausa pranzo prima di ritornare al lavoro, con pacchetti vantaggiosi e pagamenti dilazionati nel tempo. Sarà un progetto dedicato veramente alle giovani donne dai 18 ai 30 anni che vorranno avvicinarsi alla medicina estetica, alla chirurgia plastica senza troppi filtri, quindi entrando in un negozio. La parola bar non ci deve inturre diciamo in errore, in quanto la parola bar è finalizzata al fatto che siamo aperti molte ore, quindi saremo aperti dalle 9 alle 20 di sera, da lunedì alla domenica. I Clinic Bar saranno presenti in tutte le strade più importanti delle grandi città, ma soprattutto nei centri commerciali. All'interno ci saranno una reception, un desk, una sala attesa e due o tre ambulatori per la medicina estetica. Essendo un progetto dedicato alle giovani donne abbiamo deciso che all'interno dell'azienda saranno figure giovani che svilupperanno questa nuova idea e in particolare mio figlio Matteo, che sarà colui che va poi nella scelta della parte retail, e Federica, la mia assistente oramai già da tanti anni, che svilupperà tutta la parte della proposta commerciale, ovvero i tipi di trattamenti che andremo ad effettuare. L'obiettivo è avvicinare sempre più la medicina estetica al paziente, offrendo un'occasione importante anche ai giovani imprenditori che intendono aprire un Clinic Bar. L'importante è trovare un locale o su una strada principale o in un centro commerciale dai 60 ai 80 metri quadri, con un investimento iniziale tra i 75 e i 100 mila euro, adatto anche ai giovani imprenditori. In Italia si registra ogni anno un aumento del 25% tra chi ricorre a trattamenti estetici. Per questo Clinic Medical Beauty si impegna a restare all'avanguardia sulle nuove tecnologie e tendenze, senza trascurare il concetto di sostenibilità. Clinic in questi anni si è sempre impegnata a ricercare nuove tecnologie, sempre più performanti, tenendo però sempre conto dell'innovazione sostenibile. Per chi cerca soluzioni rapide, sicure ed efficaci per il benessere, Clinic Medical Beauty continua ad essere la destinazione preferita per la cura della propria bellezza.